I ragazzi autistici potranno evitare il tampone e l'assessore tinti Si annuncia le alternative, un test a salivare o un esame ai soli componenti della famiglia Covid-19, dopo mesi di zero decessi si registra una vittima nelle Marche Si tratta di una donna di 93 anni con patologie pregresse Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Fano Il comandante Anthony Turzo subentra al tenente di Vascello Castellana Il futuro della memoria al volto di Liliana Segre Sindaco di Pesaro Ricci inaugura il murale insieme alla senatrice, testimone della Shoah Ambulanti spostati in piazza Veduti Arriva la risposta dell'assessore Lucarelli che assicura Siamo al lavoro per trovare un'alternativa Fabio Latonelli invece annuncia la programmazione degli asfalti e l'assunzione di personale A spento 100 candeline Giuseppe Vitali Fanisi è sopravvissuto a un bombardamento navale negli anni 40 Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale In apertura la buona notizia che arriva dall'assessore del comune di Fano Dimitri Tinti Che annuncia due soluzioni alternative ai tamponi per i ragazzi autistici che frequentano i centri diurni Sentiamo Test salivario di prossimità ai componenti della famiglia Sono queste le soluzioni trovate dopo la richiesta dei genitori di evitare il tampone al Codma di Rosciano Per i figli affetti d'autismo che frequentano i centri diurni Infatti dopo le lamentele e l'annuncio di procedere per vie legali È stata trovata un'alternativa dalle autorità competenti in materia Comprendiamo il disagio e le difficoltà affrontate Ha ribadito l'assessore al welfare Dimitri Tinti E come istituzioni ci siamo impegnati a risolvere il problema Dopo un confronto con il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli Questa mattina si è riunito nuovamente l'OSES, l'unità operativa sociale e sanitaria Proprio per dare una risposta alle famiglie Le soluzioni alternative qualora il tampone o cosiddetto test molecolare non fosse possibile In alcuni casi critici di patologia in base alla patologia e alla situazione clinica del singolo soggetto È prevista la possibilità, due alternative O il test salivare, che è un test nuovo che si sta sperimentando anche nella nostra area vasta Oppure il test di prossimità, cioè il test molecolare o tampone Per i familiari o coloro che comunque sono a più stretto contatto con il soggetto in questione Il tampone ricordatinti ad oggi rimane comunque il test più affidabile Come precisato anche da una nota del Ministero della Salute Ora che cosa succederà? Quale sarà il compito anche dei vari centri? In risposta alla nostra richiesta che avevamo fatto a giugno A firma mia come Presidente del Comitato dei Sindaci e a firma della coordinatrice d'ambito La responsabilità sarà dei coordinatori dei centri, dei centri di urni, degli XR per disabili Che sentite le famiglie, nei casi appunto in cui ci sono delle forti criticità ad eseguire il tampone Si potranno indicare di poter fare appunto una delle due soluzioni alternative Aggiungo che già nell'ultima seduta dell'Uoses era stato anche concesso la possibilità per i prossimi controlli periodici Perché qui stiamo parlando dei prossimi controlli periodici Di poter fare, di poter attivare l'USCA Quindi l'unità che prevede l'infermiere, il medico Sia nel centro, nella sede del centro O se non è possibile anche addirittura a domicilio E adesso un aggiornamento sul coronavirus Il Gores ha comunicato poco fa che oggi è stato registrato un decesso Avvenuto nella clinica di malattie infettive al Torrette di Ancona Si tratta di una donna di 93 anni di potenza apicena Che presentava patologie pregresse ed era positiva dallo scorso 15 agosto Come accertato dal programma di screening percorso sanitario E cresce intanto il numero giornaliero dei positivi nelle Marche Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 nuovi casi su oltre 1000 tamponi nel percorso nuove diagnosi 9 sono quelli registrati in provincia di Ancona 4 in quella di Pesero Urbino Altri 4 in provincia di Fermo 3 ad Ascoli Piceno E 1 fuori regione Tra i contagi 4 soggetti sintomatici 6 rientri dall'Albania 8 contatti in ambiente domestico E 3 casi in fase di verifica I ricoverati invece scendono da 15 a 14 Mentre aumentano anche nell'ultima giornata Sia le persone in isolamento domiciliare Che quelle in quarantena per contatti con contagiati Queste ultime ad oggi sono 2.185 di cui 49 operatori sanitari E un avviso pubblico sarà aperto dal 7 al 21 di settembre Per concedere contributi Un attantum in favore delle famiglie residenti nella regione Marche Con numero di figli pari o superiore a 3 Per garantire loro un sostegno economico Anche alla luce dell'eventualità Che a seguito dell'emergenza sanitaria Si siano trovate in una situazione di precarietà lavorativa E quindi di difficoltà economica Il fondo complessivo di 200.000 euro Verrà ripartito fino ad esaurimento Tra le famiglie collocate in posizione utile Nella graduatoria regionale A seguito di un'apposita domanda Che dovrà essere presentata All'interno della piattaforma informatica regionale Siform 2 A ciascuna famiglia ammessa potrà essere riconosciuto Un contributo di 400 euro per ogni figlio minorenne a carico Fino ad un massimo di 2.000 euro per ciascuna famiglia Per l'anno 2020 Cambiamo argomento L'ufficio circondariale marittimo di Fano Questa mattina ha accolto il nuovo comandante Antoni Turzo Che subentra al tenente di Vascello Giancarlo Alessandro Castellana Nonostante l'emergenza coronavirus Abbia impedito di accogliere il nuovo comandante Con una cerimonia di avvicendamento Questa mattina all'ufficio circondariale marittimo di Fano Si è tenuto ufficialmente il cambio al vertice Dopo circa un anno dal suo arrivo in città Il tenente di Vascello Giancarlo Alessandro Castellana Lascia il comando nelle mani del tenente di Vascello Antoni Turzo 34 anni Originario di Grottaglie In provincia di Taranto Prime impressioni molto positive Soprattutto in considerazione dei rapporti Che intercorrono Tra l'ufficio circondariale marittimo di Fano E le istituzioni e le forze di polizia locali Ho avuto modo da subito Di constatare la sinergia Che intercorre Tra l'autorità marittima E le realtà locali Quindi il comandante Castellana È stato molto Diciamo puntuale nel gestire Questi rapporti E sono molto entusiasta Di poter rilevare una situazione ben consolidata In tal senso E quindi che cosa si augura? Di continuare sicuramente sul percorso Già tracciato dal mio predecessore In un contesto di massima sinergia Collaborazione e dialogo Con il cluster marittimo Con gli operatori portuali e le istituzioni È stato un periodo intenso Sia dal punto di vista operativo Che tecnico amministrativo Ha poi commentato il comandante uscente Castellana Che ha fatto un bilancio Dell'attività svolta Durante l'incarico in Capitaneria Lascio l'incarico Orgoglioso Di aver comandato Questo ufficio circondariale marittimo Così prestigioso Ho onorato di aver vissuto In questa splendida cornice Della città di Fano È una bellissima città Che ho amato Soprattutto appunto Per la sua cultura e tradizioni Ma anche per il carattere dei fanesi Così sempre disponibili In tutte le situazioni Quindi porterò questa esperienza Di comando sempre nel mio cuore Sono serenamente convinto Di aver dato il massimo Anche questo grazie al supporto Del comando generale Del corpo di capiporto Guardia Costiera E poi della direzione marittima di Ancona E soprattutto Della capiporto di Pesaro Quindi qui devo ringraziare Sicuramente il capitano di frecata Maurizio Tipaldi Che mi ha appunto Sempre fornito Ottimi, preziosi E lungimiranti consigli Sicuramente è stato un esempio Di guida autorevole E comunque sicuro punto di riferimento Per ogni situazione critica riscontrata Castellana Che è stato designato Alla capitaneria di Porto di Crotone Ha colto l'occasione Per ringraziare tutto il personale Che ha svolto il lavoro Con passione e spirito di sacrificio Presente in mattinata Anche il comandante Della capitaneria di Porto di Pesaro Sì, oggi è un momento molto importante Perché cambia il comandante di Fano E ovviamente per la guardia costiera Rappresenta un momento Di sintesi Di un bilancio Dell'anno passato E un impegno Nella continuità Per l'anno che verrà Chiaramente È condizionato Dalla nota pandemia Quindi anche La cerimonia Che sarebbe stata Un momento Per salutare La cittadinanza E per ricevere Anche il giusto tributo Da parte delle autorità E dei cittadini tutti È venuto a mancare Quindi usiamo Tra virgolette La stampa E i media Per poter comunicare Questa circostanza E dopo la protesta Degli ambulanti Del mercato settimanale Spostati in piazza Aveduti Oggi Arriva la risposta Della sessore Etiel Lucarelli Che assicura Siamo al lavoro Per trovare Un'alternativa Pochi scontrini Ed entrate Diminuite Fino al 90% Gli ambulanti Del mercato settimanale A Fano Spostati da Corso Matteotti A piazza Veduti A causa dei lavori Ad un palazzo Ieri mattina Avevano deciso Di non aprire Le bancarelle Sia in segno Di protesta Sia perché Il lavoro In quella zona È quasi azzerato Uno dei problemi Così come ci avevano Raccontato È quello Del passaggio Di persone Decisamente inferiore Rispetto alla via Principale E della città Per questo I commercianti Chiedono una diversa Collocazione All'interno Del centro storico Dopo i tanti appelli Al comune di Fano Oggi risponde L'assessore Alle attività economiche Etiel Lucarelli Stiamo lavorando Per questo Già dall'apertura Del lockdown Siamo stati Tra le prime città Ad aprire il mercato Cittadino Con veramente Uno sforzo importante La digitalizzazione Di tutta la piantina Del mercato L'inserimento Di alcune misure Che altrimenti Non avrebbero Permesso questo Ci siamo resi Da subito Conto dell'importanza Di far lavorare Da quelle persone Oggi purtroppo Sta nascendo Un problema Di un'impalcatura Per sistemare Un'abitazione Che è lungo il corso E lì non ci sono Le misure Per poter permettere Le misure covid Necessarie Per poter permettere Sicurezza Quindi stiamo Stiamo cercando Sullo stato Stato della strada Ferriano A Fano Che vi abbiamo Proprio mostrato Nel telegiornale Di ieri sera Una via Che purtroppo Ha fatto slittare La programmazione Dei lavori Adesso stiamo Riprendendo Con la riprogrammazione Del tutto Partendo dalle priorità Che sono tantissime Non riusciamo a fare Miracoli in questo momento Però comunque Cercheremo di arrivare Dappertutto Soprattutto Vorrei anche dire Che per accellare i lavori Stiamo appunto Assumendo del personale Che possa Dare aiuto In queste situazioni Che posso capire Sono emergenziali E si concluderà Alla fine di settembre La sperimentazione Della ZTL In piazza Costa A Fano E il bilancio Per l'assessore Fabiola Tonelli È positivo Nonostante alcune critiche E un po' di Comprensibile diffidenza iniziale Si legge in una nota Siamo soddisfatti Dal primo ottobre Torneranno i parcheggi Anche se verranno diminuiti E questo Prosegue Tonelli Perché daremo La possibilità Ai locali Di organizzare Al Treventi Il prossimo passo Conclude l'assessore È la riqualificazione Della piazza Sulla quale Stiamo già lavorando Ed ora ci spostiamo A Pesaro Dove ieri sera Il campus scolastico È stato intitolato Il murale Dedicato a Liliana Segre Alla presenza Della senatrice a vita Il futuro della memoria Ha il volto Di Liliana Segre Così il silaco Di Pesaro Matteo Ricci Che ieri Davanti all'Ipsia Benelli Ha intitolato Il murale Alla senatrice a vita Presente per l'occasione Nel giorno del Settantaseesimo Anniversario Della liberazione Della città L'opera Realizzata Da David Vecchiato Raffigura La testimone Della scioda Bambina Tenuta in braccio Dal padre Alberto Negli anni Trenta Il murale È rivolto Al futuro Senza dimenticare Il passato Con un tricolore Acido Sullo sfondo Spiega Il primo cittadino Perché le leggi Razziali Purtroppo Sono state anche Responsabilità Del nostro paese Un senso di colpa Prosegue Ricci Che non possiamo Rimuovere Ma possiamo Contrastare Portando avanti I valori Della libertà E della giustizia Così Come ha sempre Fatto Liliana Con i nostri ragazzi Siamo molto contenti Perché questo è il nostro Regalo Liliana Segre Liliana festeggerà Proprio il 10 di settembre 90 anni E siamo i primi A regalarle Qualche cosa E questo è davvero Un dono particolare Perché è un grande segno In una scuola In una delle principali scuole Della nostra provincia Il campus scolastico Che è un grande Anche viatico Per il futuro Perché è la dimostrazione Che questa città Continuerà A lavorare Per la memoria Contro il razzismo Contro l'intolleranza E contro l'odio Quindi davvero Una giornata particolare Noi siamo onorati Di avere Liliana Segre Nella nostra città Pesaro La sua seconda città Dopo Milano E abbiamo già dimostrato Che i sindaci Saranno la sua scorta Per sempre Ma i sindaci E tutte le istituzioni Porteranno avanti Le sue battaglie Per sempre A iniziare dalle scuole E quindi questo simbolo Ha davvero Un'importanza straordinaria Emozionata Emozionata Liliana Segre È stata accolta Al sorrivo Dagli applausi Dei presenti Appena ho visto il murale Uscendo dall'auto Ha rivelato la senatrice Sopravvissuta Alla Shoah Ho pensato Al ponte di Genova Renzo Piano Mi aveva invitato All'inaugurazione Ma non me la sono sentita Di andare Grazie all'opera Che la mia carissima Pesaro mi ha dedicato Chi passerà qui Dovrà spiritualmente Pensare al ponte Che ho lasciato Nella mia vita È un ponte Tra il bene e il male Ha precisato la Segre Un male Che si attraversa Con il fine Di essere diversi Da chi l'ha provocato Senza essere simile A loro in niente Né nell'odio Né nella vendetta Né nell'orrore Scegliendo invece Sempre la vita Quelli che sanno fare La differenza Quelli che sanno fare La scelta Sceglieranno sempre Un ponte Un ponte Che unisca Gli uni agli altri Ma che non assomigli Mai A quelli Che si lasciano Dall'altra parte A quelli Che fanno muri E non ponti Allora Questo è un murale Che è sopra un muro Ma che diventi Sempre Nel futuro Un ponte E sono terminati I lavori Per la realizzazione Della passerella Nella spiaggia Sassonia Che finalmente Permetterà Alle persone Diversamente abili Di avvicinarsi Alla battigia Finalmente Anche coloro Che hanno difficoltà Deambulatorie E motorie Potranno accedere Alla spiaggia Grazie alla nuova passerella Installata A Sassonia di Fano Che si allunga Per 10 metri Permettendo ai disabili Di avvicinarsi Alla battigia Un progetto Che nonostante Le critiche Rispetto ai tempi Di realizzazione Rappresenta Il raggiungimento Di un importante Obiettivo Per la città di Fano Questo è un segnale Che noi abbiamo dato Abbiamo contribuito Come associazione A GFH Nell'acquisto Appunto Di questa passerella Insieme Alla PM Marche Riteniamo Che a prescindere Da quando è arrivata E che è arrivata Ed è un momento Estremamente importante Perché è l'espressione Del dare dignità Alla persona Che ha un bisogno Altro Credo E penso Fortemente Che una città Si possa Decimile Là dove Si possa Misurare Il perseguimento Di un bevece Di un beve comune E in questo caso Con la realizzazione Di questa passerella Di una spiegazione pubblica Sicuramente Certamente L'assessuale Con la mobilità Della persona Di famiglia D'Oconelli L'associazione L'associazione Di un po' di figli Oremi La persona Presidente Alimmi E faccia Sambusta E l'associazione Parapeletici Marche Io appunto Rappresento Di un suo referente Opponente Credo che stiamo Dando una Immortazione Ampia Di quanto Un po' Fano Possa Essere Accessibile E maggiormente Civile Un progetto Che non deve Interessare Unicamente La spiaggia Libera Ma che intende Sensibilizzare Anche i gestori Degli stabilimenti Balneari Privati Si debbano Dotare Anche loro Di questi tipi Di passerelle Chiaramente La nostra Associazione E altre Associazioni Si interesseranno Per poter Partecipare Noi ci siamo Siamo presenti Però ecco Bisogna Che queste Passerelle Vengano Prese Da questi Concessionari Perché Per dare In modo Alle persone Con disabilità Di arrivare Perlomeno Vicino Una collaborazione Una collaborazione Quella tra Comune Associazioni Che è Destinata A continuare Con l'obiettivo Di rendere Fan Una città Aperta All'uguaglianza E alle pare Opportunità Siamo molto Orgogliosi Di aver Di questo Ottimo risultato Di aver Fatto Questa Opera Perché È un inizio Di un percorso Che speriamo Nel prossimo Anni Di poter Proseguire Mi prenderò L'impegno Di sistemare Questa Passerella Adattandola Meglio Alle esigenze Di tutti loro Siamo Molto Orgogliosi Come amministrazione Anche Di avere Iniziato Questa Collaborazione Che diciamo Non è iniziata Con quest'opera Ma stiamo Già lavorando Su altri Progetti Che il Comune Sta facendo E che noi Sottoponiamo Sempre Alla visione Di varie Associazioni Oltre la GFH Per appunto Avere consigli E delle migliorie Dei progetti Che loro Hanno visionato Per esempio Sono la Darsena Borghese Un progetto Di riqualificazione Di tutta Quell'area E anche La nuova Piscina Comunale Che verrà Fatta In zona Aeroporto E adesso Invece Vi raccontiamo La storia Di Giuseppe Giuseppe Vitali Un fanese Sopravvissuto A un bombardamento Navale Durante la Seconda Guerra Mondiale Che pochi giorni Fa Ha compiuto Ben cento Anni Era il 2 dicembre 1942 Quando un aero inglese bombardò la Lupo Un cacciatorpediere che si trovava nelle acque greche E a causa dell'agguato affondò in pochi minuti Soltanto 17 persone sulle 300 imbarcate riuscirono a sopravvivere Uno di loro è il fanese Giuseppe Vitali Che il 22 agosto ha compiuto cento anni Presente alla festa oltre ai familiari Il sindaco Massimo Seri e il comandante uscente della Capitaneria di Porto Poi c'è un prego Ha portato a Palermo E chi si è più svegliato dopo due giorni Perché ero già Metta sì e metta no Un'impresa per cui gli è stata conferita Una croce di guerra al valore militare Il Presidente della Repubblica è Inaudi Il primo Presidente della Repubblica Alla caserma del Monte a Pesaro Eravamo in tre Uno come me è un partigiano Una grande passione per il mare Ed una vita divisa tra Fano e Milano Piena di lavoro ma anche di soddisfazioni Quella del signor Giuseppe Che svela così i segreti della sua longevità Sempre vissuto bene Mangiato bene A bere Bere quello Infinito Le viti, la vegna La botte dei quattro pittani Una da cinque Eh bisogna sbrugliarle Che già ce la vendemmi al prossimo anno Allora è verdure Verdure dell'orto Molto pesce Verdure dell'orto Un grande lavoratore stacanovista Che anche dopo aver spento le cento candeline Fatica a stare fermo Una qualità di famiglia Dicono il figlio ed il fratello Se vado nell'orto Passare un'ora Che devo dire Avevamo una pianta d'erbaccia Che erbe Passando giusto un'ora Che devo fare Più di quella non fai Come adesso Ho pulito i fagiolini Stavo a sedere Quello che ci ha passato mio padre Sicuramente è la grinta E il non mollare mai Il fatto di avere sempre idee in testa Anche se si va in pensione In pensione non si va mai È una cultura che non abbiamo La cultura del pensione non esiste Nel senso che Bisogna sempre restare attivi Questo è sicuramente quello Che mi ha passato Per noi l'attività è vita Appunto se ci fermiamo Vuol dire che Non va tanto bene Altrimenti E' chi ci ammazza Dicono a Roma Non resta quindi che fare I migliori auguri a Giuseppe Che ci saluta citando il suo detto Dopo il centro Troppo bene E nel prossimo fine settimana Sui campi del centro tecnico federale di Roma Sarà segnato il titolo nazionale juniore Sa squadre di bocce specialità raffa Tra le magnifiche otto Che si sono qualificate per la fase finale C'è anche la San Cristoforofano Che dunque rappresenterà le marche La squadra della bocciofila del presidente Paolo Marchionni È allenata da Giovanni Iacucci Coadiuvato da Samuele Ferri Sabato 5 settembre Quarti di finale al mattino E semifinale al pomeriggio La San Cristoforo Giocherà i quarti contro la California Domenica poi la finale Ebbene questa era l'ultima notizia Del nostro telegiornale Tra poco trasmetteremo Uno speciale elettorale Dedicato a Lucia Tarsi Candidata al consiglio regionale Delle Marche Con la lista Civitas Civici A sostegno Del candidato governatore Francesco Acquaroli Del centro-destra Io vi ringrazio per l'attenzione Vi ricordo che l'appuntamento Con l'informazione Ritorna domani mattina Alle ore 7 Con la rassegna stampa Arrivederci Sous-titrage ST' 501